Sei pronta ad affrontare le piste? No! Ma per niente! Ma piantala! Guarda che meraviglia! Guardate che bello! Stiamo andando a quanti metri? 2,5 Uela, 2,5 Io rimango con lei, faccio tutto il giorno avanti di noi Ma polizieri, guarda! Polizieri proprio, guarda Io sto tutto il giorno invece a fare i selfie Ileri Blasi per il ponte dell'Immacolata Si concede una vacanza a Sam Moritz Insieme a Michelle Unziker Va in montagna con l'amica Insieme a loro ci sono anche le figlie La conduttrice 41 anni ha portato la piccola di casa Isabel, 6 anni La collega, 45 anni Invece è partita con sole di 9 anni Celeste di 7 Le bimbe avute da Tommaso Trussardi Sam Moritz, Sam Moritz Se non hai vissuto Troppo freddo Con Ilari Ciao! Che bello che siamo qui con i bimbi Ciao! 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 Grazie a tutti.